Finché sarò in vita, vi impedirò di fare quello che mi pare, esseri demoniaci! Ci sono giornalisti qui? Nessuno della televisione? Io, mister satan, eroe della giustizia, ho sconfitto il male e non lo saprà nessuno? Non importa, sarò io stesso ad avvisare la stampa per telefono. Ci sono, ho localizzato l'ultima sfera. Evviva, evviva, l'hai trovata! Già, ecco la sfera dalle quattro stelle. Ti aspetti? Bene, con questa l'abbiamo tutte e sette. No! Vuoi muoverti? Avanti! Vengo! Ora gli faccio uno scherzetto. Non mi era mai capitato di fare buca in un colpo, sono diventato bravo! Avanti, Gohan, a che aspetti a chiamare il Drago Shenron? Appari, Drago Shenron! Non mi è un colpo! Che bello il drago Mamma mia, quanto è grande Esprimi i tuoi tre desideri Esaudirò tutto quello che mi chiederai Grande drago Sharon Sulla terra i defunti risorgono e creano scompiglio Ti chiedo di riportare il pianeta alla sua normalità A questo che vuoi Ci aiuterai Mi dispiace, ma non mi è possibile esaudire il tuo desiderio E per quale motivo? Shandrum, sei veramente cattivo Oh, Ducky Il destino dei defunti è soltanto nelle mani di Ray Yammer Il vostro problema supera di gran lunga ogni mia possibilità E adesso, che facciamo? Non potremmo chiedergli di aiutarci in qualche altro modo? No, è inutile Non avete altro da chiedere al drago Shenron Grazie a tutti